Adesso si riferiscono ad un intervento dei vigili del fuoco di Iaci Reale con il supporto dell'autoscala arrivata dalla sede centrale di Catania. Ci troviamo sulla via provinciale per Santa Maria degli Ammalati dove il cavalcavia mostra segni di evidente logorazione ma non pericoli strutturali. La caduta dei calcinacci però potrebbe ovviamente creare dei pericoli alle persone o ai veicoli in transito. Per questo è necessario e sarà necessario l'intervento dell'ufficio tecnico per lavori di manutenzione urgente. Da sottolineare però come ci segnala Carmelo Barbagallo dell'USB dei vigili del fuoco che la sede di Iaci Reale non ha in uso l'autoscala. La deve avere da quella di Catania e la sede di Iaci Reale è una sede che svolge ovviamente tantissimi interventi durante il corso delle giornate. Resta momentaneamente aperto il tratto di strada sulla provinciale per Santa Maria Ammalati frazione di Iaci Reale dove ieri si è reso necessario l'intervento urgente dei vigili del fuoco dopo la segnalazione di caduta calcinacci da un cavalcavia sul posto. Come si vede dalle immagini in nostro possesso è intervenuta la partenza di Iaci Reale con il supporto dell'autoscala della sede centrale di Catania. ha messo subito in sicurezza il cavalcavia che necessita di lavori urgenti per scongiurare il rischio di danni a persone o cose e non presenterebbe almeno ad una prima analisi pericoli strutturali ma è già partita la segnalazione all'ufficio tecnico del Comune per l'esecuzione di lavori di manutenzione urgente.